Nella condizione umana. L'hanno trovato sotto una trave sopra il suo sangue che bagnava la palla. Giocava da solo in una baracca mentre fuori pioveva, quando tutto è crollato. Mocchetti, almeno rispondimi adesso. Eri un bambino oppure una piccola pianta? Ridevi e ridevi, che cosa capivi? Ridevi e ridevi. La tua balbuzia e ridevi, lo sguardo idiota e ridevi, la puzza di sporco e ridevi. Avevi anche tu ragione di vita, sapevi chi ero, la scuola cos'era. Quando spiegavo, oltre alle mosse volgarie sotto il banco e i fatti sconci, cosa dicevi ai compagni? Che ridevano e ridono, ridono, sei morto e sorridono. Siamo venuti al funerale con gli standardi, ti seguivano e sorridevano, ti hanno sepolto e hanno sorriso. Quando ti interrogavo, sapevi soltanto di calcio. Se stavi buono, dormivi con il mento appoggiato sul banco. Tante volte ho paura di non essere in grado di poter capire. Forse eri in fondo, in fondo all'umano, oppure in cima, in cima al divino, ed esistevi per insegnarci a capire. Commento. Non eri né in fondo né in cima al divino, ma né la condizione umana, insieme a tutti quelli che hanno una bassa evoluzione cosmica. La scienza ha chiamato queste creature in vari modi. Dal 1930 le ha chiamati cretini, minorati, subnormali, handicappati, diversamente abili. Come possiamo aiutare queste creature? Il primo passo per aiutarle è ascoltarle, anche se non dicono nulla. Noi allora puliamo la nostra anima attraverso l'ascolto di chi, noi crediamo, soffre di più.